Il governo federale dice che il settore finanziario va benissimo e che l'economia del nostro paese è più forte che mai. Ma se vi guardate intorno vedete banche che falliscono dall'oggi al domani e lunghe file ai Bancomat. Una delle più grandi banche d'America è improvvisamente fallita. La Silicon Valley Bank è stata chiusa dalle autorità di vigilanza. La banca aveva oltre 175 miliardi di depositi, è la seconda banca più grande a fallire nella storia degli Stati Uniti. Ma c'è di peggio, perché poi è fallita improvvisamente anche un'altra banca, qui a New York. Ma prima di addentrarci in quello che è successo a queste banche, e nel possibile effetto domino sull'intera economia, vorrei tranquillizzarvi. Il governo federale, come ho detto prima, dice che è tutto a posto. È intervenuto anche Joe Biden. Gli americani possono avere fiducia nel fatto che il sistema bancario è sicuro. Quindi dovrebbe essere tutto a posto, perché il governo federale dice che la situazione è sotto controllo. Ma partiamo dall'inizio. Circa un mese fa, Jim Kreimer, conduttore del programma Mad Money di CNBC, ha consigliato ai suoi telespettatori di acquistare azioni della società controllante della Silicon Valley Bank. Ecco cosa ha detto durante il suo programma, in un momento in cui il prezzo di un'azione della banca era di circa 320 dollari. La nona migliore performance fino ad oggi è stata quella di SVB Financial, cioè la controllante della banca. Non sbadigliate. È una banca d'affari, con una base di depositi, di cui Wall Street si è erroneamente preoccupata. Il titolo è ancora poco costoso. Da quel momento in poi, il destino della banca era segnato. C'è infatti una battuta ricorrente nella comunità finanziaria. Qualunque cosa Jim Kreimer suggerisca di comprare, è proprio quella da evitare. E infatti così è stato, perché oggi il prezzo delle azioni SVB Financial vale esattamente zero. Silicon Valley Bank è una banca d'affari quotata in borsa e specializzata in start-up tecnologiche californiane. Nella Silicon Valley, questa banca era molto popolare e rappresentava circa la metà di tutte le start-up statunitensi sostenute da capitale di rischio. In pratica, significa che circa la metà delle persone che hanno lanciato una start-up tecnologica si sono rivolte alla Silicon Valley Bank. Tra i suoi clienti c'erano alcuni dei più grandi attori dell'industria tecnologica, come Shopify, Roku, Block5 e molti altri. Tuttavia, questa specializzazione di nicchia della banca ha causato un grosso problema. Perché, finché l'economia era in pieno boom, quando tutto andava bene, le start-up tecnologiche erano piene di soldi e assumevano gente a destra e a manca. Per la Silicon Valley Bank andava alla grande, perché naturalmente queste start-up tecnologiche, cariche di capitale di rischio, avevano conti correnti molto elevati. Ma a partire dall'anno scorso, mentre l'inflazione imperversava in tutto il paese, come probabilmente saprete, la Federal Reserve ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse. Questo drastico aumento dei tassi ha creato un problema a molte start-up tecnologiche, che non erano più in grado di raccogliere tanto denaro attraverso le IPO, le SPAC o i venture capitalists. E poiché non erano in grado di raccogliere molto denaro, un numero sempre maggiore di queste start-up tecnologiche ha iniziato a usare i soldi sui propri conti correnti per pagare i costi di esercizio. Così, per tutto il 2022, la quantità di contanti depositati presso la Silicon Valley Bank è andata scemando. Ma nel contesto dell'attività bancaria moderna, una cosa simile non può andare avanti molto. Quando oggi si va in banca e si depositano, diciamo, 100 dollari, quei 100 dollari non restano lì in banca ad aspettarvi. Quello che fanno tutte le banche moderne è tenere una piccola parte del nostro denaro in banca, mentre il resto o lo prestano, o ci giocano in borsa, o lo investono. Silicon Valley Bank, nell'ultimo anno aveva acquistato una quantità enorme di titoli di debito pubblico americano a 10 anni. Così alla fine si è arrivati a un punto in cui, per dare i soldi ai correntisti, la Silicon Valley Bank ha dovuto iniziare a vendere in perdita i propri titoli del tesoro. Ma questo accadeva dietro le quinte, e gli investitori non erano effettivamente consapevoli della gravità della situazione. Come abbiamo visto poco fa, persino Jim Cramer tesseva in TV, davanti a tutta l'America, le lodi della Silicon Valley Bank e diceva alla gente di investirci. Ma poi la banca ha rilasciato una dichiarazione ai propri investitori, in cui ha affermato di aver bisogno di raccogliere rapidamente 2 miliardi 250 milioni di dollari per non andare in fallimento. Questa rivelazione non solo ha scioccato gli investitori, ma ha anche causato una corsa agli sportelli. Le aziende che tenevano i loro soldi nella Silicon Valley Bank, a quel punto, hanno capito che tirava una brutta aria e hanno iniziato a ritirare furiosamente i propri soldi. 24 ore dopo l'annuncio, i clienti avevano ritirato ben 42 miliardi di dollari dai propri conti. Era ormai evidente che la banca stava per diventare insolvente. Così, l'indomani, venerdì, le autorità di vigilanza della California sono intervenute, hanno sequestrato i depositi e hanno chiuso ufficialmente la banca, determinando il secondo più grande fallimento bancario della storia americana. Ma, fatto alquanto singolare, poco prima che le autorità prendessero il controllo della banca, fino a pochi attimi prima del colossale crack, i capi della Silicon Valley Bank vendevano a tutto spiano le proprie azioni societarie. Secondo Unusual Wales, una pagina Twitter che segue questo tipo di transazioni diciamo corrotte, l'amministratore delegato della banca, poco prima del crollo, ha venduto l'11% delle sue azioni. Il direttore finanziario ha venduto il 32%, il direttore marketing ha venduto il 25% e il consulente legale ha venduto il 19%. Verrebbe quasi il sospetto che avessero intenzione di filarsela prima che le azioni andassero a zero. E come se non bastasse, sempre il giorno del crack, si è verificata una coincidenza incredibile, i dipendenti della banca hanno ricevuto i propri bonus. Poche ore prima del fallimento della banca, invece di dare ai correntisti i loro soldi, i dirigenti hanno pensato bene di mettere al caldo i premi dei loro dipendenti. Complimenti. Ora, la domanda spontanea è, cosa succede al denaro dei correntisti? Cosa succede al denaro delle start-up tecnologiche che avevano rapporti bancari con la Silicon Valley Bank? Allora, tutti i saldi inferiori a 250.000 dollari sono assicurati dal governo con un programma creato subito dopo la Grande Depressione. Tutte le banche americane pagano al governo una polizza per assicurare i propri depositi fino a 250.000 dollari. Quindi, chi aveva fino a 250.000 dollari nella Silicon Valley Bank non ha alcun problema. E probabilmente ha avuto i propri soldi entro un giorno lavorativo. Ma siccome la Silicon Valley Bank lavorava principalmente con aziende tecnologiche piuttosto che con normali correntisti privati, c'è un problema enorme. La stragrande maggioranza dei conti, quasi il 95%, eccede i 250.000 e non è coperta dall'assicurazione del governo. Ovviamente qui parliamo di aziende che devono pagare stipendi, spese varie, affitti, bollette eccetera. Queste aziende avevano molti conti da pagare. Il che significa che, se non fossero state in grado di ottenere presto i loro soldi, sarebbero stati guai per una parte consistente dell'economia. Ma esiste una procedura per affrontare anche una situazione del genere. Normalmente, le autorità federali dovrebbero intervenire, rilevare la banca, cosa che hanno già fatto, e vendere tutte le attività che la banca ha a bilancio per tutelare al massimo possibile i correntisti. In base all'attivo del bilancio della Silicon Valley Bank, al momento del crack i correntisti erano in grado di recuperare circa l'80-90% del loro denaro. Il che sembra piuttosto ragionevole, data la situazione. Ma non è andata così. Al contrario, le autorità federali sono convinte che questa banca sia troppo grande per fallire, e vogliono salvarla completamente il prima possibile, per evitare un effetto domino sull'intero sistema bancario. In sostanza, il governo dice che, senza un cosiddetto bail-out per questa banca, tutti i correntisti americani che hanno più di 250.000 dollari sul conto corrente, avrebbero ritirato i loro soldi dalle proprie banche, provocando una corsa agli sportelli su scala nazionale. Sentite cosa dice in proposito il deputato del North Carolina Jeff Jackson. Poco fa c'è stata una chiamata di emergenza su Zoom con diverse centinaia di parlamentari, convocata dal Ministero del Tesoro con un preavviso di 15 minuti. Mi è stato inviato un link. Io ho cliccato e ho trovato lì gran parte del Parlamento. Non è normale, ma non lo è nemmeno la situazione. Lo scopo dell'incontro era quello di annunciare le misure straordinarie che verranno adottate per tutelare il nostro sistema finanziario. Oggi sentirete il presidente e i leader di entrambi i partiti. Quello che è successo è che tre giorni fa abbiamo avuto il secondo più grande fallimento bancario della storia americana. È successo perché una banca californiana, chiamata Silicon Valley Bank, ha perso molti soldi, per cui molti clienti si sono spaventati e hanno cercato di prelevare, provocando una corsa agli sportelli. Il governo federale è intervenuto e ha chiuso la banca. Ma ecco il problema. Di solito i depositi in banca sono garantiti solo fino a 250.000 dollari, ma la stragrande maggioranza dei clienti di questa banca aveva depositi superiori, perché era specializzata in start-up e piccole imprese. Quindi l'incertezza su cosa sarebbe successo ai clienti con depositi superiori a 250.000 dollari è iniziato a diffondersi ad altre banche. E ieri sera è fallita una banca, a New York. Poi, altre sono entrate in allarme. Erano le prime fasi di un effetto domino, da cui la chiamata su Zoom. Tutti i correntisti della Silicon Valley Bank saranno risarciti. Lo stesso vale per la banca di New York. Pagheremo con il fondo che le banche già versano, non con i soldi dei contribuenti. In questo momento, ogni passo che si sta compiendo ha un solo scopo, bloccare subito l'effetto domino. E infatti, le autorità di vigilanza dello Stato di New York hanno chiuso la Signature Bank, una delle principali banche di New York, fortemente esposta nelle criptovalute. E poi è arrivato Joe Biden, e ha annunciato che il governo garantirà tutti i correntisti, indipendentemente dall'ammontare dei loro conti, aggiungendo che il sistema finanziario di questo paese è molto forte. Ascoltate. Voglio parlare di quanto sta accadendo alla Silicon Valley Bank e alla Signature Bank. Oggi, grazie alla rapida azione della mia amministrazione, gli americani possono essere certi che il sistema bancario è sicuro. I vostri depositi saranno a disposizione quando ne avrete bisogno. Le piccole imprese di tutto il paese, grazie ai conti di deposito di queste banche, possono essere più tranquille sapendo che potranno pagare dipendenti e bollette. E anche i lavoratori possono respirare. La scorsa settimana, quando siamo venuti a conoscenza dei problemi delle banche e dell'impatto che avrebbero potuto avere sui posti di lavoro delle piccole imprese, e sul sistema bancario in generale, ho dato istruzioni di agire rapidamente per proteggere questi interessi. E l'hanno fatto. Venerdì la vigilanza competente, l'FDIC, ha preso il controllo degli asset della Silicon Valley Bank e poi degli asset della Signature Bank. Il ministro del tesoro IELN e la vigilanza bancaria hanno agito. Un'azione immediata. Ecco i punti salienti. In primo luogo, tutti i clienti che avevano conti in queste banche possono stare tranquilli, anzi certi, che saranno tutelati e avranno accesso al loro denaro a partire da oggi. Incluse le piccole imprese di tutto il paese che devono pagare gli stipendi e le bollette per rimanere aperte. Non ci saranno perdite, e questo è un punto importante, non ci saranno perdite a carico dei contribuenti. Lo ripeto, nessuna perdita a carico dei contribuenti. I soldi verranno dai conferimenti delle banche al fondo di assicurazione e depositi. Quindi ogni americano deve stare sicuro che i suoi soldi saranno a sua disposizione se e quando ne avrà bisogno. In secondo luogo, i dirigenti di queste banche saranno licenziati. Se la banca viene rilevata dalla vigilanza, i dirigenti devono andarsene. In terzo luogo, gli investitori nelle banche non saranno protetti. Hanno consapevolmente corso un rischio. E quando va male, l'investitore perde i soldi. È così che funziona il capitalismo. Allora, Biden dice che i soldi non verranno dalle nostre tasse. Da un lato è vero, ma dall'altro no. Perché il governo assicura solo depositi fino a 250.000 dollari. Per cui, se facciamo i calcoli, il governo dispone solo di 126 miliardi di dollari. Ma in tutti gli Stati Uniti ci sono 9.000 miliardi di dollari di depositi che superano la soglia dei 250.000. Quindi ci sono 9.000 miliardi di dollari di depositi non assicurati. Insomma, finché si tratta solo della Silicon Valley Bank e della banca fallita qui a New York, il denaro dell'assicurazione governativa è sufficiente a coprire tutto. Ma che succede se altre banche falliscono? Il governo non avrebbe mai i soldi per coprire tutte le perdite. E che succederebbe a quel punto? Naturalmente la Fed interverrebbe con i soldi pubblici. Ora che è stato stabilito il precedente che, se una banca fallisce, i conti correnti sono sempre al sicuro a prescindere da tutto, in ultima analisi i soldi non potranno che arrivare da noi contribuenti. Il che significa che le banche sono di fatto autorizzate a prendere i soldi dei correntisti e usarli, ad esempio, per fare speculazione o in operazioni ad altissimo rischio facendo, se va bene, profitti di milioni o miliardi di dollari. Se invece va male, e la banca fallisce, non c'è problema perché tanto pagano tutti i contribuenti. Quindi, i banchieri potranno fare milioni, o miliardi, a palate senza correre il minimo rischio. L'attività bancaria così diventa ancora di più un gioco ad alta remunerazione e privo di rischio. E questa non è teoria, perché in questo momento le azioni di diverse banche stanno crollando in tutto il paese. Per esempio, le azioni della First Republic Bank sono appena crollate del 60%, la Western Alliance è crollata del 76%, la Puckets ha perso il 41%, la Regions il 31%. E molte di queste banche hanno subito la sospensione del titolo in borsa per eccesso di ribasso. E a far piovere sul bagnato, ci sono i video online di persone in fila davanti ai bancomat di tutto il paese. Insomma, ci sono tutte le condizioni per scatenare una corsa agli sportelli in tutta l'America. E quindi, date le dimensioni del disastro che potrebbe abbattersi su di noi, l'idea che questo gigantesco backstop venga ora finanziato dai contribuenti americani sembra una chimera. Ovviamente, questa storia si sta evolvendo di minuto in minuto, per cui, se volete approfondire quello che abbiamo discusso fino a ora, vi lascio tutti i miei appunti di ricerca nella descrizione del video. Arrivederci alla prossima dal vostro Roman di Epoch Times. Restate informati. E, soprattutto, restate liberi. Grazie. 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 Grazie.